non c'è nulla da per cui arrabbiarsi non c'è nulla per cui non lo so prendersela con i nostri ragazzi perché oggi non si poteva fare niente cioè oggi non si poteva proprio fare niente non mi vergogno di aver perso con la juve non mi vergogno di aver perso tre di aver preso tre pere dalla juve per come stavamo messi ecco ma anche se avevamo tutti i giocatori in campo cioè va bene così avevamo una marea di assenze stamattina Rebic e Kronic positivi al covid quella sfilza di infortunati però poi mi lancia a culo capito noi siamo primi per cul vabbè poi io quando sento queste cose mi incazzo ancora di più raga oggi non c'è niente per cui arrabbiarsi da prendersela con i ragazzi c'è solo da dire ok rimbocchiamoci le maniche pensiamo alla prossima cioè oggi non non me la sento di arrabbiarmi cioè non sono neanche arrabbiata devo essere incerta non sono neanche arrabbiata sapete perché perché si sono impegnati fino alla fine ci hanno sputato sangue sudore per la maglia fino alla fine ed è questo che voglio vedere dal milan questo è quello che abbiamo ottenuto oggi e mi va bene così mi va veramente bene così guardate per come stavamo messi guardate va benissimo così certo mi rode perché con tutti i titolari secondo me potevamo vincerla tranquillamente anche se so che con i sei con i ma non si va da nessuna parte tra l'altro non abbiamo giocato neanche malissimo anzi forse il primo tempo abbiamo giocato male per il semplice fatto che prima del gol di calabria creavamo occasioni solo da errori di in fase di impostazione da parte della juve perché per il resto per il primo tempo non abbiamo c'era abbastanza era equilibrato il primo tempo nel secondo bene abbiamo tentato ma purtroppo non è andata purtroppo quando non c'è ai giocatori succede questo c'è loro in panchina ci avevano meccenni culusevski noi in panchina che ci avevamo frigerio che non che l'altro ieri ho scoperto chi è daniel maldini colo questi ci avevamo oggi non avevamo nessuno neanche a pagare uno milioni di euro per farlo giocare nel milano lanciavamo oggi nessuno vabbè comunque ripeto non sono arrabbiata sono solo triste ecco sono amareggiata fine certo l'arbitragio è da rivedere è perché ok che la juve è forte perché la juve è forte però bentancur doveva essere buttato fuori che doveva esserci il secondo giallo per bentancur ma ovviamente ti pare cristina ti pare cioè tu giochi con la juve e pretendi che uno viene buttato fuori aggressivi ma sta nel 2021 ancora pensi che quando gioca la juve non c'è il dodicesimo uomo per loro vabbè ovviamente non è colpa dell'arbitro che abbiamo perso però un po più imparziale potevi essere molti falli non fischiati punizioni a caso però va bene così rega cioè va bene così gli unici che hanno giochi che mi sono piaciuti sono stati cialanoglu che sì leao e anche e anche basta no anzi calabria stranamente però per il resto niente rega prima o poi doveva succedere prima o poi dovevamo perdere dopo quasi un anno che in campionato non non perdavamo abbiamo perso che dobbiamo fare imbocchiamoci le maniche sta cosa non ci deve prendere psicologicamente perché ci abbiamo ci abbiamo il torino sabato e col torino in teoria dovrebbe essere facile e non ci deve prendere la botta psicologica perché se ci prende la vedo male niente facciamoci un bel esame di coscienza rimbocchiamoci le maniche speriamo bene per la prossima speriamo che no non penso che recuperi nessuno perché siamo il milan no no però noi ci abbiamo culo siamo primi perché abbiamo culo è vabbè niente basta così non so più che dire